Tutto pronto per Musicalmente per Teleton, consueto concerto per sostenere la ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche. Domenica 29 novembre appuntamento alle 19 nella chiesa anglicana di Napoli. L'evento presentato nella sede della Banca Nazionale del Lavoro, promosso dall'Associazione Maggio della Musica, vedrà il maestro Michele Campanella accompagnare Peppe Servillo e le voci italiane nei classici della canzone napoletana. Nel corso degli anni, Teleton, grazie al sodalizio con la BNL, è riuscita a raccogliere in oltre 20 anni più di 256 milioni di euro, contribuendo a finanziare oltre 2.500 progetti con migliaia di ricercatori coinvolti e studi su 450 malattie genetiche. Ascoltiamo Sergio Meo Martini, presidente dell'Associazione Amici del Maggio e Gabriella Cascetta, responsabile Direzione Territoriale Sud di Teleton. La formula è praticamente sempre la medesima, musicalmente per Teleton è una festa che i musicisti regalano al pubblico perché si possano raccogliere i fondi a favore dell'iniziativa meritoria. Noi con BNL e con Teleton operiamo da anni e quindi dicevo la formula è una formula confermata, quella di una staffetta musicale. Quest'anno su un tema, il tema è il classico napoletano e che verrà declinato sotto diversi versanti interpretativi naturalmente da tutti gli artisti di pregio e di prestigio che sono presenti in questa edizione. Grazie all'impegno di 20.000 dipendenti e dei loro familiari ci ha consentito di raccogliere 250 milioni di euro. Teleton è uno dei più grandi programmi di fundraising a livello internazionale e quindi è l'unica modalità che abbiamo per finanziare la raccolta per la cura delle malattie genetiche. Tutto questo sempre attraverso la musica o ci sono anche altre forme che potrebbero nascere in questa collaborazione? Ci sono tante altre iniziative, quindi grazie all'impegno per l'appunto dei volontari, dipendenti della banca e non, si organizzano concerti, manifestazioni sportive. Quest'anno in particolare tutte le filiali della campagna saranno concentrate su eventi di natura sportiva nella mattina.